Efficienza, efficacia e autosufficienza per una sanità vicina al cittadino e capace di dare risposte concrete in breve tempo. Si basa su questi pilastri la riorganizzazione sanitaria della regione che dà una vera svolta al sistema esistente. La riforma è frutto di un lavoro lungo e complesso, ha detto il governatore, ma è solo l'inizio di un'inversione di tendenza. Infatti, dopo la modifica della legge 13, deliberata ieri dalla Giunta, viene superata l'asur unica nata nel 2003. All'epoca, ha precisato Acquaroli, c'erano esigenze completamente diverse e in 19 anni la regione è cambiata profondamente, soprattutto nella conformazione dei territori, dall'invecchiamento della popolazione alla denatalità nelle aree interne, variabili rilevanti nel piano socio-sanitario. Tra l'altro, uno studio del fabbisogno svelerà le richieste e le carenze nell'erogazione dei servizi. Intanto, si va verso un percorso che porterà all'entrata in vigore della legge entro 45 giorni, alla soppressione dell'asur il prossimo 31 dicembre e all'avvio delle nuove asta, cioè le aziende sanitarie e territoriali, dal 1 gennaio 2023. Nella stessa data, l'azienda ospedaliera Marche Nord verrà incorporata nell'asta di Pesero Urbino, una delle cinque previste dalla riforma. Queste, insieme all'IRCA di Ancona e all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, andranno a formare gli enti del servizio sanitario regionale. Ciascun ente si articolerà in distretti, dipartimenti e uno o più presidi ospedalieri. Inoltre, come ha spiegato l'assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, le singole aziende dovranno rispondere a tutte le domande delle prestazioni sanitarie e dovranno auto-organizzarsi già nel prossimo gennaio con l'atto di conformazione. Previsti anche degli uffici dedicati alle relazioni con il pubblico e i direttori generali dovranno garantire dei riscontri tempestivi. I procedimenti, infatti, dovranno avere risposte entro 30 giorni. La sanità, aggiunto l'assessore, dovrà essere giudicata dai cittadini che in forme diverse potranno valutarne la qualità, mentre la conferenza dei sindaci dovrà esprimersi sui bilanci e sugli atti di programmazione delle aziende, oltre a dare un giudizio sul direttore generale, un parere obbligatorio ma non vincolante. I cittadini dovranno apprezzare concretamente che non ci potranno essere più lunghe liste d'attesa, che le prestazioni dovranno essere adeguate e in tutto questo abbiamo bisogno evidentemente dell'aiuto di tutti, dei cittadini, soprattutto degli operatori sanitari e delle organizzazioni sindacali, dei sindaci che avranno un ruolo principale nella programmazione della sanità. Diciamo che mettiamo in campo tutte le risorse del nostro sistema democratico paese e quindi a quel punto ci giocheremo una partita penso che possa cambiare la sanità che finora abbiamo conosciuto. Altro tema affrontato in conferenza stampa è stato quello del personale che dallo scorso dicembre è diminuito di 30 unità. È qui che Acquaroli ha ricordato l'aumento già messo in campo sia delle borse per i medici di medicina generale sia quello dei contratti di formazione per i medici specialisti. Siamo consapevoli, ha commentato il Presidente, che se vogliamo dare una risposta questa è l'unica strada percorribile. Dunque una riforma che punta ad un potenziamento dei servizi territoriali con investimenti sul personale e sulle case di comunità, una sanità di prossimità senza ospedali unici e soprattutto un ruolo più importante affidato ai comuni e a tutti i cittadini. Perché rende protagonisti i territori rispetto ad una dinamica che finora li vedeva sempre più poveri e meno pieni di servizi e di opportunità. Sicuramente non è solo con una legge l'individuazione e la votazione di una legge che si superano tutti i problemi ma è un nuovo inizio che cambia il modello e il presupposto. Grazie.